Pietro secondo me devi fargli dire quello per terra, quando non ce n'è più per terra io esco, non so perché ma io esco Dai Pietro fai un po' di dati da fare Quante volte a giorni deve mangiare? Una volta a giorni Ma mangiano anche carne o sosse Ti sta muzzicando? No, adesso perché stanno faccio vedere i denti che hanno perché li erano tagliati e li vanno fuori